Bucchi, quanto scotta giocare al Comunale? Beh no, diciamo che dai, questo è un periodo che soprattutto in casa stiamo facendo delle prestazioni magari un po' sotto tono, no? Quindi, però ecco, adesso addirittura dire che scotta, no? Perché comunque sia... Ve lo ha detto il vostro allenatore però, eh? Sì, va bene, perché poi quando magari le cose non vanno bene, sicuramente magari si ripercuote un po' magari anche sulla squadra, però dico, penso che in questo momento quello che per noi è importante è ricercare un attimo di ricompattarci tutti quanti, perché poi in un momento di difficoltà, questo sicuramente è un momento un po' magari di difficoltà, quindi bisogna essere ancora più bravi a essere tutti quanti uniti, lavorare ancora di più perché quello paga sempre un po' alla fine e cercare di uscire da questa situazione nel più velocemente possibile, ecco. Allora verrebbe da dire, beh, per fortuna che si gioca in trasferta, più in trasferta di così non potrebbe essere, visto che andate all'estero a giocare. Sì, dai, domenica andiamo a fare una partita in un rario, in un campo diciamo un po' particolari, però al di là di questo a noi ci deve importare quello di riuscire a fare un buon risultato, una buona partita, perché in questo momento ce n'abbiamo bisogno e quindi cercheremo di far sì che già la domenica possiamo un attimino invertire quello che è questo momento un po' diciamo così un po' no. Vista la classifica, il San Marino forse è l'avversario più comodo che poteva cavitarvi in questo momento? Ma guarda, vedendo un po' quello che succede poi di domenica in domenica, partite facili non ce ne sono, perché poi si vede che magari, faccio esempio, Pistoiese vince con noi e poi perde a Sant'Arcangelo, vedo che l'Aquila vince a Ferrara, quindi diciamo partite facili non ce ne sono, sicuramente è una di quelle che in questo momento anche loro non stanno facendo un ottimissimo campionato, però ha dei valori, quindi non bisognerà mai fare l'errore di sottovalutarli perché poi magari ci si rimane scottati. Noi dobbiamo pensare a prepararci bene e andare su a fare risultato. Dopo Sant'Arcangelo il prossimo gol di Bucchi dove sarà? Io lavoro sempre per far sì che quando magari cerco di essere chiamato in causa di farmi trovare presente. Non ci sto riuscendo in queste partite che sto giocando, spero che è appena possibile di farlo.